Un musical sulla vita di San Felice da Nicosia con un duplice scopo, raccogliere fondi da mandare in beneficenza in Eritrea e festeggiare il cinquantesimo anniversario sacerdotale di Fra Benigno Prestigiovanni e Fra Giuseppe Cunzolo. Il Teatro Bellini di Adrano, sabato e domenica, con inizio all'ore 20, apre le porte per ospitare l'asino del convento, sia per l'amor di Dio, un'opera che ripercorre la vita di San Felice, vissuto tra il 1715 e il 1787. I testi recitati sono di Fra Salvatore Seminara, mentre le musiche e i testi musicali sono non solo di Fra Seminara ma anche di Giuseppe Marchese, Fabrizio Caruso e Vincenzo Licari. Ai nostri microfoni Fra Seminara ci parla del musical che è andato in scena già in diverse città, tra cui Bronte e ovviamente Nicosia. Invitiamo a partecipare a questo evento anche perché praticamente tutto ciò che sarà il profitto di questo musical lo sarà devoluto per i frati cappuccini dell'Eritrea, per costruire un pozzo in Eritrea. È un musical nostro, originale, scritto, i testi sono stati scritti da me, poi hanno collaborato con me un po' tutta la compagnia dei DB Friends di Biancavilla, in modo particolare Vincenzo Licari e Giuseppe Marchese. E anche ci sono dei canti di Fabrizio Caruso. Ecco, vogliamo accennare e anticipare qualcosa sulla serata di sabato? Sì, allora, la vita di San Felice, praticamente, la vita di San Felice è una vita semplice di un frate cappuccino del 1700, un frate che è questuante, quindi che si alzava ogni mattina prestissimo per pregare e poi partiva con la sua bisaccia a incontrare la gente, a chiedere la carità per i poveri e per il convento. E in questa, diciamo, routine giornaliera però ha fatto tanti miracoli, no? Che la sua biografia è piena di miracoli e noi raccontiamo più che altro non i miracoli in se stesso, ma il senso di questi miracoli in una persona così semplice che si affida al Signore ogni giorno, come San Felice. Il suo motto, infatti, era sia per l'amor di Dio. Nelle occasioni triste e liete della vita diceva sempre sia per l'amor di Dio. Un musical che avete già proposto in altri teatri della Sicilia, mi diceva che la prima volta ad Adrano c'è un po' di emozione al Teatro Bellini, poi, come diceva giustamente lei, è un musical che ha anche, soprattutto, uno scopo benefico, ecco perché l'invito è quello di venire in massa sabato sera al Teatro Bellini. Sì, innanzitutto i biglietti sono appunto su invito, quindi tanti posti, sabato già è pieno, si è riempito subito appena hanno sentito questa novità promossa da noi frati. E poi domenica ci sono ancora molti posti, quindi la gente può anche prenotarsi per evitare di arrivare là e non riuscire ad entrare. E' un evento emozionante perché appunto l'abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta a Nicosia nell'Orto, è riuscito molto bene e poi da lì abbiamo deciso di portarlo dovunque ci fosse stato richiesto. E quindi l'abbiamo portato di nuovo a Nicosia in estate, poi a Bronte e ora ad Adrano. Per ultimo, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte sostanzialmente. Sì, abbiamo deciso di rappresentare la vita di San Felice in musical perché sappiamo che magari il libro non lo leggerà mai nessuno, ci sono diversi libri, biografie, Bisaccia Eroica, E' Tornato San Felice, tante biografie, però non le leggerà nessuno magari neanche, soprattutto tra i giovani. E quindi abbiamo deciso di rendere fruibile la vita di San Felice attraverso la recitazione e il canto attraverso il musical.